Rendetevi conto, la povera mattina d'Aloia è stata trattenuta all'ospedale per una radiografia e adesso come minimo dovrei sospendere chi l'ha colpita, ma non sarebbe giusto perché dovrei sospendere anche chi gli stanno prima ad alzare le mani e magari tutti i vostri compagni, i vostri compagni che invece di dividervi vincitavano e partecipavano alla zuffa La dialettica delle idee, anche aspra Da, da dire, te lo butto, eh Scusi È un'esperienza formativa indispensabile a patto che non si dà genere in lissa come invece purtroppo accade delle volte nelle più alte istituzioni del nostro paese Vogliate scusarmi, eh? Grazie per esservi scomodati Grazie signor Presidente, ci scusi ancora Arrivederci, buongiorno Dai Daniele, alzati Dai la mano alla tua compagna, fate pace Ma non è anche morta Perché io, dai ti prego, dai Sei pazzo, va, quella mi infetta Il dottor Loiacono, grazie Vi faccio passare l'ispettore Dov'è che ci siamo incontrati noi Adesso vediamo Mi dispiace molto, se posso fare qualcosa Maglio Scusa Sì, perché devo scappare, sono un ritardo Per caso hai bisogno di un passaggio No, no, grazie, non importa Ma ecco comunque con te Beh, un bocca al lupo Previ Auguri Mandano una volante Saranno qui tra poco Grazie a tutti Sarebbe pronta a tavola? Eh, non ho fame, grazie Non ti prego Vieni Non ti prego Al mattino per le regioni occidentali Si prospetta una... Devo chiederti scusa, Caterina Papà ti capisce benissimo Non è colpa tua, sai Tu sei come me Noi siamo due vittime Avresti dove vedevi Quei due Mi pare di amiche due Papà e Ciccio Tutti e due dello stesso partito Quelli che sanno come se sta il mondo Quelli che sanno come se sta il mondo E figlie Amiche due Fatte con lo stampino Identiche Quella è gente privilegiata Noi per loro siamo niente Giancarlo No, stavolta fammi parlare Stavolta fammi parlare perché è importante Noi, noi siamo persone che possono contare solo su proprie forze Allora io una volta pensavo che era proprio grazie a questo che ce la potremmo fare E invece mi sono sbagliato È tutto inutile Caterina Ti prego Così Ci escludono, si trattano come giocattoli Siamo dei pupazzi che non si possono permettere un cazzo nella vita Capito? Nemmeno una soddisfazione sul lavoro Una bella casa, un po' di rispetto da parte degli altri Niente Cazzo 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 Ah! buoni